piano qua eh prima ve l'ho beato con comodo e l'altro ne l'hai chiusa poi perché salta fuori lì dove è uscito lui vai scaretta un'altra volta adesso portali giù normali perché va che questi cuociono eh no no tirli su sulla riva non ce la fanno più non ce la fanno più si deve arrivare fuori lungo qua se provo a Lele siamo ammazzati ora non ce la fai se provo a Lele guarda dove c'ha il tuo seme non è l'unica oce di cani oggi non sono stato il mio è duro è gelatissimo non ti preoccupare ti faccio fare poco